Pressione in calo sul Mediterraneo per l'avvicinarsi di una saccatura atlantica. Una perturbazione a essa associata interesserà l'Italia nella giornata di lunedì. Lunedì 23 settembre in Toscana inizialmente poco nuvoloso, ma con tendenza a peggioramento a partire dalla costa con possibilità di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale, più frequenti dal pomeriggio. Venti deboli di scirocco, tendenti a diventare di libeccio. Mari tra poco mossi e mossi. Temperature minime in lieve aumento, massime in diminuzione. Sulle province di Lucca e Massacarrara cielo molto nuvoloso con possibilità di rovesci. A Lucca temperatura minima 14 gradi, massima 21. In Versilia minima 16 gradi, massima 21. In Garfagnana la minima sarà di 11 gradi, massima 17 gradi. Infine nella provincia di Massacarrara minima 15, massima 20 gradi.